Ciao, noi siamo i Lorenzi e ci occupiamo del reparto IT. Ci occupiamo della gestione del software aziendale che è stato interamente sviluppato da noi. Il gestionale supporta gli utenti in tutto il ciclo produttivo aziendale. E inoltre forniamo supporto tecnico a tutto il personale. Lavoro in Castor da quasi 7 anni e io 4. Siccome siamo due svanettoni, una cosa positiva di lavorare in Castor è che possiamo inventare e sviluppare sempre cose buone. Una cosa negativa è che ogni giorno abbiamo sempre a che fare con un sacco di donne. Ci vuole tanta pazienza. Grazie. 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 Grazie.